Per la prima volta a Campobasso in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo sarà possibile eleggere un consigliere comunale in rappresentanza dei migranti extracomunitari residenti nel capoluogo. Il consigliere aggiunto parteciperà alle riunioni del Consiglio Comunale e potrà portare all'interno della Sise proposte sui temi che riguardano la vita delle comunità di migranti che vivono in città. La rete del villaggio ecosolidale, dopo alcune assemblee pubbliche e con la presenza di numerosi rappresentanti dei migranti che vivono a Campobasso, ha indicato e sosterrà quindi le candidature della signora Kozak Maria, ucraina, 57 anni di professione badante, e quella del signor Odi Maduabuki Kelvin, detto Madu, 27 anni, cittadino nigeriano. A loro si aggiungono anche altri due candidati. Doadi Jouad Marocchino, 43 anni, che vive da 12 nel capologo molisano e lavora come mediatore culturale in uno dei centri di accoglienza. Si candida per difendere i diritti di tanti come lui e lavorare per una integrazione che ancora naspa o fatica ad essere promossa. Marocchino come lui anche il quarto ed ultimo candidato, Eluzi Elkmatir, che di anni ne ha 63. La figura del consigliere aggiunto, una sorta di inquilino extra nella sise civica con diritto di voto, è stata introdotta dopo l'approvazione di una delibera da parte del Consiglio Comunale. Grazie a tutti.